Nell'ultimo appuntamento del suo viaggio in Albania, Papa Francesco ha incontrato i bambini ospiti del Centro di Assistenza Betania e altri ospiti di centri caritativi del paese, nel villaggio alla periferia di Tirana, fondato nel 1999 dall'italiana Antonietta Vitale. Nella chiesa di Betania, dopo aver ascoltato la testimonianza di un giovane cresciuto nel centro, il Papa ha ricordato che il bene paga infinitamente di più del denaro, che invece delude, perché siamo stati creati per accogliere l'amore di Dio e donarlo a nostra volta, e non per misurare ogni cosa sulla base del denaro o del potere. I volontari ringraziati da giovani perché da 15 anni si sacrificano con gioia, per amore di Gesù e per amore nostro, non sono compresi da tanta parte del nostro mondo, ha aggiunto Papa Francesco, che cerca affannosamente nelle ricchezze terrene, nel possesso e nel divertimento fine a se stesso, la chiave della propria esistenza, trovando invece alienazione e stordimento. Il segreto di un'esistenza riuscita, ha concluso il Papa prima di incontrare e abbracciare nel piazzale della chiesa centinaia di bambini e disabili, e invece amare e donarsi per amore. Allora si trova la forza di sacrificarsi con gioia, e non fanno più paura scelte definitive di vita, ma paiono nella loro vera luce, come un modo per realizzare pienamente la propria libertà. Dopo un breve colloquio con il primo ministro albanese nell'aeroporto Madre Teresa di Tirana, il Papa ha salutato autorità e vescovi albanesi ed è salito sull'aereo che lo ha riportato a Roma.